Questa sera abbiamo l'onore e il piacere di intervistare una scrittrice, una scrittrice per caso forse, è la mamma di una ragazza che a 15 anni all'improvviso va in coma. Gli si rompe un'arteria importante nel cervello e accade per loro la fine del mondo, ma lei è una donna forte, una donna coraggiosa, come sono le donne in genere, e va avanti convinta che sua figlia si risveglierà. Quando succede, lei scrive un libro che è L'amore non toglie la vita, infatti l'amore regala la vita, e così Maura Lombardi ha voluto raccontare a tutti una storia fantastica, scritta in un linguaggio molto chiaro, molto semplice, senza agili di parole, dove racconta un po' tutto di lei, da bambina, la madre, la nonna, le zie, il fratello, i vari lavori, dei genitori, il cambiamento di vita, il marito, conosciuto da fin da quando era ragazzino, per caso, e poi la nascita della figlia, il gioco, il divertimento, la felicità con questa bambina, una casa stupenda, comprata, un sogno incantevole, che poi si spezza. Ma vediamo che cosa ci racconta adesso Maura Lombardi di tutta questa storia. Io ho voluto scrivere questo libro per testimoniare che quando tu metti l'amore nelle cose riesci ad ottenere più di quello che ti aspetteresti. Ho voluto dire anche a tutti i genitori che comunque sono in difficoltà, hanno dei problemi, di non arrendersi mai, perché comunque c'è sempre qualcosa dietro l'angolo. La vita ti riserva sempre delle sorprese e che comunque se tu dai amore a un'altra persona, l'altra persona ti dà qualcosa in cambio, lo riceve. In qualsiasi forma, in qualsiasi forma, verbale, con le carezze, con gli occhi, con la musica. E quindi non bisogna smettere di dare amore, perché quando è ora di smettere, comunque, come dico nel libro, l'altra persona te lo fa capire. E Giulia non me l'ha mai fatto capire. E quindi io sono andata avanti. Beh, anche la certezza di quel voglio la mamma prima di perdere i sensi è stata la forza che forse è servita a Maura per farcela. Sì, assolutamente sì, perché comunque mi mancava un pezzetto. Mi mancava comunque quella... non ero arrivata in tempo in quel momento, quindi avevo bisogno di risolvere, diciamo, di rispondere a questa domanda. Io avevo bisogno di dirle ci sono. Gliel'ho detto per tutti questi anni, gliel'ho detto in mille modi e poi gliel'ho potuto dire veramente con la voce. Cosa ha provato quando ha venduto la casa dei suoi sogni? Ma io prima pensavo che ognuno di noi ha un sogno, lo rincorre, cerca di fare. E poi mi sono detta, ma in fondo la casa è una cosa. Le case, le auto, sono tutte cose. E le cose servono. Quindi in quel momento è servito venderla proprio per dare la possibilità a Giulia di continuare, di andare avanti con le cure, di andare avanti con tutto quello che potevamo fare noi per lei, per migliorare la sua vita, insomma. Da un dispiacere così grande, come si esce? Rafforzati, ma in quale parte di noi? Si esce rafforzati nel carattere perché comunque diventi un leone, perché quando vedi che c'è qualcuno che si arrende tu cerchi di farlo andare avanti, cerchi di farlo continuare e poi si esce spiritualmente molto molto forti, molto molto forti, perché impari a comunicare in un altro modo e non con le parole solamente, ma col cuore e con tutto il resto. Lei parla di un medico che le è piaciuto in modo particolare. Quello che ha saputo mettere nel suo lavoro è l'empatia. L'empatia è una gran cosa. Ho trovato diverse persone che l'hanno usata. Questo medico ha capito e mi diceva io faccio quello che farei se Giulia fosse mia figlia e questo forse dovrebbero farlo tutti, dovrebbero immedesimarsi nelle storie degli anni. Come se. Come se, esatto. Come se. Bravissima. Sì, proprio così. Perché comunque se tu non giri un pochino il faro, io dico sempre, verso gli altri non riesci a capire che cosa provano, non riesci a capire di che cosa hanno bisogno realmente. Oggi Giulia che dice? È felice. Oggi Giulia è felice. È una ragazza felice, nonostante abbia delle difficoltà enormi, perché comunque Giulia ha uno strascico... 12 operazioni al cervello. Esatto. L'hanno resa comunque, tra virgolette, meno attiva. È su una sedia a rotelle, però ha reimparato a nuotare, è venuta in aereo, contentissima, felicissima. Ha imparato a conoscere tante persone che le vogliono bene. Quindi il messaggio? Il messaggio è quello di non arrendersi mai, mai, mai arrendersi. Bisogna andare avanti e ci si arrende solo quando l'altra persona ti dice di arrenderti. L'amore non toglie la vita. Perché il titolo così? Sì, ma perché l'amore dà la vita, non la può togliere. Quando nasce un figlio è nato perché comunque c'è stato dell'amore tra due persone e quindi per forza non può toglierla. È impossibile, cioè è proprio legato. La parola amore e la parola vita sono legate e quindi il toglierla sarebbe un controsenso, diciamo.